Mara Venier, Federico Fashion Style, è gay? La reazione è epica, sono ormai ore che la notizia del supposto coming out di Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, sta facendo il giro del web Infatti, secondo Alessandro Rosica, il parrucchiere dei VIP avrebbe finalmente ammesso di essere gay negli studi di Verissimo Durante l'intervista, che andrà in onda sabato 21 gennaio a partire dalle 16.30, Federico rivelerà a Silvia Toffanin che, nonostante tutto, ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia Era da tempo che in molti sospettavano dell'omosessualità dell'hairstylist e, proprio per questo, sul web si sono scatenati con i commenti Federico Fashion Style gay non è uno scandalo invece lo era il fatto che per anni si proclamava etero, scrive un utente di